Parlavamo di 150 anni per quanto riguarda il teatro di Filippo, a Roma lei va a vedere mostre di Filippo, le capita? Sì, quando posso, quando il lavoro mi lascia la disponibilità, il tempo, ci vado molto volentieri, sono molto curioso io di vedere tutto ciò che è arte, va bene che camminando per Roma basta guardarsi attorno e l'arte ce l'hai sotto gli occhi, ma mi piace alle volte andare alle mostre. C'è una mostra alla Casa del Cinema, lei ovviamente sa tutto di Ingrid Bergman, Sonia Signoracci sa tutto di questa mostra. Sì, salve, buonasera a tutti, dunque è una mostra che abbiamo allestito alla Casa del Cinema, è una mostra che comprende varie sezioni, abbiamo una sezione dedicata a Santa Marinella con 30 immagini legate alla sua vita a Santa Marinella negli anni 50-60, dove la possiamo vedere in tutta la sua serenità, semplicità, raffinatezza, sia insieme alla famiglia che insieme ad attori di lustro come Gregory Peck, Rock Hudson e via dicendo. E poi abbiamo una seconda mostra, ci tengo particolarmente a dire che è accurata da un giornalista di Radio Vaticana, che è un collezionista di foto di Ingrid Bergman, Rosario Tronnolone, che ci ha gentilmente concesso l'utilizzo di 62 foto originali, che non comprendono solo le immagini di Ingrid Bergman al cinema, ma anche nelle sue opere teatrali. Ed infine abbiamo pensato, per arricchire la mostra, di realizzare degli abiti ispirati ai suoi film più famosi, quali Notorious, Intermezzo e io ti salverò. Questi tre abiti sono stati realizzati da tre fashion designer di Santa Marinella, che sono Anna Rotella, Stefano Gagliano e Teresa Venuto. E poi anche dei dipinti della pittrice Civita Vecchiesi Ombretta del Monte. Senta, poi davvero lanciamo in onda la sigla, ci sono molti ospiti, tanti collegamenti e altri servizi. Servizi. De Filippo, cosa fa la differenza? De Filippo, Bergman, insomma perché poi si diventa De Filippo, si diventa Bergman? La Ingrid Bergman è stata una grande attrice, bravissima, ricordiamo dei film suoi hollywoodiani molto belli. Aveva una capacità di comunicare al pubblico la sua bravura, come De Filippo, una delle belle qualità artistiche De De Filippo è quella di essere chiaro in quello che si propone al pubblico, avere una comicità diretta che arriva subito al pubblico con tanta apparente semplicità, far comprendere la bellezza di una commedia, l'efficacia, la poesia di una commedia senza strade tortuose e incomprensibili, come spesso accade a volte in teatro oggi. E' quello dei De Filippo un teatro di immediata comprensione, di grande coinvolgimento col pubblico. Grazie a Luigi De Filippo, 40 ma non li dimostra teatro Parioli fino al 10 maggio, la sigla di Applausi Teatro e Arte. Altri ospiti, altri spettacoli teatrali, i colleghi dalle sedi regionali per parlare di teatro e di arte. Ecco la sigla.